Mancano tre giorni alla sfida contro il Cerignola dell'ex Ivan Tisci, Cerignola che ha interrotto il silenzio stampa e i tesserati torneranno a far sentire la propria voce nelle prossime ore. Una squadra, quella pugliese, che non se la passa benissimo nell'ultimo periodo, lo stesso Tisci pare essere sulla graticola. Si giocherà la panchina, probabilmente contro l'Avellino, il che consegnerà certamente stimoli diversi alle cicogne. Nelle ultime cinque gare, tre i pareggi e due le sconfitte, con soli quattro gol realizzati e nove quelli subiti, in dubbio uomini importanti come i difensori Ligi e Martinelli, così come anche l'altro ex Agostino Rizzo. I bianco-verdi dal canto loro, seppur in emergenza, devono tornare immediatamente alla vittoria al Montelisi, giornata giallo-blu con prezzi popolari per il match di domenica pomeriggio, ambiente caldo dunque, che però Mr. Pazienza conosce benissimo, ma non solo, perché non più tardi di un mese fa anche Michele D'Ausilio vestiva la maglia del Cerignola con il numero 10 sulle spalle, assente invece l'altro ex di Cristofaro, gara certamente particolare per i due chiamati a fare la differenza nella partita del Montelisi. Pazienza per le scelte, alcune anche forzate da fare in mediana, il fantasista per le giocate in campo e perché no, la ricerca del terzo gol in maglia bianco-verde. Un D'Ausilio che ha avuto un impatto importante con la piazza Erpina, due i gol importanti contro Potenza e Casertana e prestazioni sufficienti che hanno messo in mostra il nuovo numero 7 dei Lupi. Per caratteristiche tecniche i tifosi si aspettano ancora di più da un giocatore che ha nelle corde dribbling, cambio di passo, assist, sono 7 in campionato, e i gol che tra Cerignola e Avellino sono diventati 6, appuntamento importantissimo per l'Avellino che non può permettersi ulteriori passi falsi per restare in scia almeno secondo posto.